Un presidente, un presidente, un presidente Un presidente, un presidente Per aver creduto in un sogno di realizzato, è una fantastica realtà chiamata Norte Iberia, Parma Pateropea, nel centro di Bianco, lo stanno. Per aver creduto in un sogno di realizzato, è una fantastica realtà, è una fantastica realtà, è una fantastica realtà.